buongiorno benvenuti alla resegna stampa oggi lunedì 7 dicembre 2020 questo è il canale 17 di fano tv e benvenuti all'appuntamento che apre non solo la settimana ma anche l'informazione di prima mattina siamo in diretta e sono le 7 un minuto iniziamo con il santo di oggi il cartello che adesso la nostra regia ci mostrerà oggi è festa a milano mai festa per la chiesa sant'ambrogio sant'ambrose con la festa degli obey obey alla fiera anzi degli obey obey a milano 7 32 l'orario dell'alba 16 32 invece quella del tramonto e adesso il tempo che tempo farà per la giornata di oggi lo vediamo grazie al bollettino meteo della protezione civile marchigiano allora le pratici le precipitazioni oggi saranno deboli sparse nei settori montani avremo per il resto soltanto cielo parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite lungo la fascia culinare costiera poi addensamente invece nell'entroterra le temperature sono in diminuzione soprattutto le massime domani invece è martedì 8 giornata di festa domani sarà segnata e contrassegnata dalle precipitazioni deboli sparse ma anche a carattere di rovescio temperature stazionari oppure in lieve aumento tempo instabile ancora per i prossimi prossimi giorni allora siamo in zona gialla abbiamo visto già da ieri con locali che hanno riaperto bar ristoranti ci sono segnali di incoraggiamento soprattutto per quelle attività che sono state costrette per queste settimane in queste recenti settimane a tenere chiusi i propri locali o comunque a gestire il tutto con l'asporto il che non è proprio una passeggiata e comunque segnali dicevo importanti sono arrivati anche dall'economia buona la prima questo è il titolo d'apertura del Corriere di Riatico edizione di oggi bar e ristoranti buona la prima vince la voglia di normalità e nei locali c'è anche tutto il tutto esaurito alla colazione seduti ma non si alla colazione seduti non si rinuncia nelle marche però c'è un picco di positivi più di 20.000 con il virus ancora 10 vittime il totale sale a 1.337 a centro pagina invece la giornata sportiva di ieri che in provincia di Peso Urbino ha visto il derby tra la Vis e il Fano con un pari che è senza gloria 0 a 0 il risultato finale questo è il derby al Benelli mentre sulla strage di Corinaldo tempesta perfetta due anni dopo la strage la verità su quanto accadde la lanterna azzurra è in parte scritta nella prima sentenza quella sulla banda dello spray in parte da scrivere invece nel processo ai colletti bianchi il blitz del comando e le lacune del locale innescarono una tempesta perfetta Fano addio a Gentili il presidentissimo tra calcio e pellice avviata la consegna dei saturimetri a Pesaro Ricci insieme ai volontari a distribuirlo e poi a Pergola l'ospedale ridotto al lumicino taglia reparti e servizi vive in rete la riscossa delle strade secondarie idee creatività e ottimizzazione delle risorse per la ripartenza in centro storico 10 progetti e poi viale Ceccarini Pascuzzi furioso il caos della folla la visione è indegna tanta gente per le strade della Romagna il resto del calino di Pesaro invece la fotonotizia è per i due momenti di sport il calcio e il basket vicefano a zero WL a tappeto derby senza gol contestati biancorossi Delfino e compagni KO invece a Treviso stragi in disco il giorno del dolore a due anni dalla tragedia di Corinaldo tre comuni commemorano le vittime le famiglie chiedono ora giustizia si è spento l'ex patron dell'alme della vissa addio a Gianni Gentili l'uomo che sognava un calcio senza derby notte al freddo e sotto la pioggia per un anziano ritrovato dopo 24 ore guerra al covid screening anche a Urbino vaccini per tutti solo a fine 2021 a gradare invece sul pitbull il cane ucciso dai cacciatori il proprietario adesso dice lì denuncio ben trovato ristorante si apparecchia la normalità prima domenica in zona gialla Magnini tutto ok anche nei 100 stile libero qualificando si è qualificato agli assoluti l'assessore Baldelli invece l'assessore regionale svela il progetto sulla ciclabile Fanurbino un po' più in là cioè 5 metri più in là rispetto al tracciato della ferrovia e dunque la regione sposta questo tracciato della pista per un futuro recupero appunto della linea ferroviaria andiamo sulla pagina di Ancona del resto del Carlino la fotografia liberi tutti primo giorno da zona gialla ma rispettiamo le regole mentre il titolo è su Corinaldo la nostra vita devastata parla nel secondo anniversario della strage in discoteca alcuni parlano alcuni familiari delle vittime un faro è stato verrà acceso per ricordare appunto queste 6 persone che non ci sono più la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico muore Gianni Gentili il presidentissimo l'addio nel derby delle sue due squadre aveva guidato sia il Fano Calcio che la Vispesero con i Granata nel 1981 arrivò addirittura a sfiorare la Serie B è stato un imprenditore, scrive Foghetti questa mattina sul Corriere è stato un imprenditore fanese importante che ha acceso sì con il suo negozio di pellice i desideri delle signore ma lo è stato ancora di più per gli sportivi come presidente del Fano Calcio gestendo la gestione d'oro della squadra Granata a cavallo tra gli anni 70 e 80 in cui è stata sfiorata la Serie B la scomparsa di Giovanni Gentili chiamato da tutti Gianni avvenuta all'ospice di Fossombrone sabato scorso all'età di 82 anni dove era ricoverato per una patologia cronica ha anticipato il giorno del derby più sentito dai tifosi quello che ha visto ieri ancora una volta contrapposto il Fano Calcio alla Vispesero e ha suscitato grande commozione e a dire che Gianni Gentili invece sognava un calcio tra la Vis e il Fano senza derby perché senza derby? perché sognava un'unica squadra un'unica squadra tra appunto il Fano e la Vis un'unica squadra provinciale ma una squadra forte in grado di competere e di giocare ad alti livelli un sogno che per ora è rimasto tale e di questo parla il resto del Carlino il mondo del calcio piange Gianni Gentili si è spento 82 anni l'ex presidente dell'Alma e anche della Vis nonché grande imprenditore e commerciante nel settore delle pellice e lo ricorda il nipote Leo Gentili in questo articolo ricordo che aveva un sogno che era quello di costruire un grande stadio provinciale per unire le due società per poter così scalare il calcio ad alto livello e questo fu il grande motore fu il grande motore lui che era un uomo ambizioso a diventare dopo i nove anni all'Alma anche presidente della Vis Pesero e fu un uomo di mediazione nel suo periodo di presidenza all'Alma dove ha sempre cercato di conciliare mai di andare allo scontro con i giocatori il suo funerale il suo funerale è previsto per la giornata di mercoledì nella Basilica di San Paterniano ma ancora non è stata fissata allora chiaramente ve la daremo e ve la comunicheremo nel corso della giornata attraverso i social e attraverso il nostro sito internet e poi questa sera nel telegiornale delle 20 e 30 poi oggi c'è un'altra notizia invece che è un po' in risalto sicuramente nei giornali che troverete in edicola torna a far parlare di sé anche se non ha mai smesso in questi giorni in queste settimane quel ristoratore di cui si parla e si è parlato abbondantemente anche a livello nazionale che ha un po' portato avanti questa sua azione contro il sistema una disobbedienza civile la definisce lui che ha fatto parlare di sé Umberto Carriera Umberto Carriera che ha deciso di fondare un partito politico qualcuno dirà era nell'aria qualcun altro dirà guarda te e insomma questo è il titolo del Corriere di oggi Carriera la butta in politica e annuncia un nuovo partito inaugura lo chic a Fano senza sgarbi e rivela la nascita del suo partito che si chiamerà Movimento Liberale Italiano questo è il nome della nuova realtà politica che sta prendendo forma nella nostra provincia e che tra le sue ragioni si propone quello di tutelare il diritto di espletare liberamente la propria attività tutto questo in queste ore Umberto Carriera si sta confrontando con ovviamente i suoi fedelissimi sta cercando i nomi i nominativi di coloro che vorranno far parte di questo movimento e mercoledì prossimo si svolgerà si svolgerà a Pesaro la sua assemblea costitutiva qual è il messaggio di questo di questo movimento il messaggio è rivolto in particolare dice Carriera alle partite IVA poi agli esercenti e in generale a tutte quelle fasce economicamente debilitate da questo tipo di politica intanto Osvaldo Scatassi sul giornale di questa mattina scrive ieri a pranzo è stato inaugurato in forma ufficiale il ristorante chic in via San Francesco a Fano quindi in centro dove all'inizio del mese scorso si era svolta un'altra controversa serata alla presenza di Vittorio Sgarbi nella giornata di oggi invece nel ristorante pizzeria La Macelleria a Pesaro sarà avviata un'altra iniziativa che non dovrebbe passare in osservata scrive Osvaldo Scatassi ho previsto dice Carriera 30 pasti al giorno per tutto il mese di dicembre riservate alle persone in stato di necessità metto a disposizione la somma per pagare le tasse del 2019 così facciamo il nostro anno bianco in modo autonomo ecco un po' va un po' per la sua strada il summit invece in prefettura a Pesaro conferma il giro di vite anche oggi ci sarà il monitoraggio del rispetto delle regole come ogni settimana c'è stata questa riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto Vittorio Lapolla l'incontro è stato dedicato non soltanto all'aggiornamento della situazione sanitaria della provincia ma anche a definire le più opportune strategie di monitoraggio e controllo del rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid quindi il fatto che siamo in zona gialla non deve far pensare al cosiddetto libera tutti ma comunque ci saranno e continueranno come giusto che sia anche i controlli da parte delle forze dell'Ordine due anni dopo la tragedia di Corinaldo i giornali scrivono di questo tragico anniversario due anni dopo un faro per le vittime nella notte l'anniversario della tragedia che uccise cinque ragazze e una giovane mamma in paese accesa una luce puntata verso il cielo intanto il primo filone ha visto la condanna della banda dello spray che provocò l'inferno per rubare ai giovani tutte pene sono tutti in carcere questi ragazzi che hanno scatenato quell'inferno hanno più o meno pene dai 18 ai 16 anni di carcere e quindi questi sono sistemati il resto il secondo filone la procura ha chiesto rinvio a giudizio per tutti i 18 indagati ci sono le accuse che il giornale pubblica e che troverete appunto sul giornale di questa mattina Corinaldo qui siamo sulla pagina di Pesaro e Provincia tre comuni ricordano le vittime a Fano Fano che non dimentica Benedetta Vitali di 15 anni nonostante l'enorme antisembramento l'assessorato alle nuove generazioni guidato da Barbara Brunori ha organizzato per l'8 dicembre una piccola commemorazione in piazza 20 settembre un momento istituzionale di grande semplicità come ha sottolineato appunto l'assessore Brunori come ci hanno chiesto i ragazzi dell'associazione dei genitori che è nata dopo i fatti dall'antenna azzurra domani alle 18 ci ritroveremo dicono in piazza 20 settembre sotto l'albero di Natale uniti nel ricordo con il sindaco Massimo Serri le forze dell'ordine il vescovo di Fano i giovani leggeranno dei pensieri in ricordo di queste vittime e ci saranno anche delle testimonianze parteciperanno anche Corrado e Francesco che sono il babbo e il fratello di Benedetta e allora questo è quello che insomma ha organizzato Fano ma poi così come Fano abbiamo detto momenti simili e quello di Fano sono previsti anche Senigallia e Frontone si parla della ciclabile della pista ciclabile Fanurbino sulla pagina 6 del resto del Carlino sarà un po' più là come dice l'assessore regionale Baldelli che modifica il progetto allontanando la pista dalle rotaie così non impediremo la riattivazione della ferrovia l'avvio dei lavori entro dicembre 2021 quindi neanche tanto in là già pronti 4 milioni e mezzo di euro che sono fondi europei e c'è l'intervista che Anna Marchetti ha realizzato appunto con l'assessore regionale Baldelli che dice spiega come questa pista ciclabile questa ciclovia verrà realizzata più o meno insomma 5 metri più là rispetto alla vecchia ferrovia poi si parla di questo anziano che è stato ritrovato sotto la pioggia a Calcinelli a saltare i colli al metauro insomma dopo una notte trascorsa praticamente all'addiaccio si era temuto il peggio poi invece ieri mattina verso le 11.30 è arrivato il lieto fine dopo 24 ore senza avere alcuna notizia e un'intera notte trascorsa all'addiaccio Augusto Scola 82enne di Calcinelli è stato ritrovato vivo e anche in buone condizioni tra l'altro noi come troop eravamo eravamo lì nel momento in cui è stato ritrovato l'82enne e c'è stato subito detto che insomma era in buone condizioni era vigile era sveglio insomma era ovviamente infreddolito bagnato perché immaginate voi passare una notte e ringraziando il cielo la notte scorsa la notte in cui è stato costretto a dormire fuori le temperature non erano rigide come invece la notte precedente che erano quasi intorno al 3-4 gradi lì sarebbe stato molto più difficile però la tempra di questo 82enne gli ha consentito insomma di sopravvivere durante la notte e quindi è stato trovato poi portato in ospedale adesso fanno alcuni accertamenti e poi tornerà a casa e adesso qualche paginetta un paio di pagine sul Covid che troverete sempre sui giornali di questa mattina pagina 2 del Corriere Adriatico più di 20.000 con il virus sono i marchigiani i ricoveri tornano a salire picco di positivi attuali ieri altri 443 casi ma per il 97% dei contagiati basta l'isolamento domiciliare attenzione le percentuali vanno i numeri vanno vanno non solo letti ma anche come dire interpretati bisogna capire bene quindi il 97% di queste persone che sono state contagiate possono stare tranquillamente a casa in ospedale ci sono in questo momento 600 pazienti una decina in più rispetto alle ultime 48 ore ma ci sono due persone in meno invece in terapia intensiva altre 10 vittime nelle ultime 24 ore tutte con patologie pregresse avanti con gli anni la pressione sui reparti è diminuita i reparti ospedalieri rispetto all'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità nella fase 1 il record dei casi attivi era stato di 3738 il 7 di aprile e poi si parla invece sul Carlino dello screening di massa che verrà effettuato anche nella città di Urbino i vaccini per tutti solo a fine 2021 accolta la richiesta per inserire la città ducale nella prima fase della campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi ma per l'anti-covid alla popolazione dopo sanitarie forze dell'ordine ci sarà ancora un po' da aspettare ieri abbiamo detto 10 vittime di cui 4 nella provincia di Pesolurbino mentre sulla questione ecco di Fermignano che abbiamo visto essere un paese che ha più di 100 persone contagiate dal covid anche Fermignano questa è la notizia rientrerà nel monitoraggio dopo aver scritto al presidente della regione Acquaroli il sindaco Feduzzi torna a chiedere che Fermignano sia inserita nella prima fase dello screen di massa in partenza il 18 di dicembre la lettera è firmata dal suo vice Alessandro Betonica quindi questo non è una cosa ufficiale ancora fa parte della richiesta che Fermignano ha fatto alla regione poi scuola in presenza il dittac dei prefetti i prefetti che hanno adesso più poteri e quindi chiedono per poter far tornare gli studenti degli studenti delle superiori a scuola chiedono però insomma che gli orari degli autobus e gli stessi mezzi siano sufficienti così come gli orari siano coordinati se vogliamo riportare appunto gli studenti a scuola in presenza le elezioni dal vivo al 75% nelle superiori dal prossimo 7 gennaio prevedono appunto che ci sia un po' di coordinamento e dunque nasce la cabina di regia istituzionale questo anche a livello regionale e poi a Pesaro sono partiti è partita la distribuzione dei saturimetri per i disabili e per chi ha oltre 65 anni i saturimetri lo abbiamo detto più volte abbiamo fatto anche dei servizi servono sono quegli apparecchietti dove tu infili il dito e serve per misurare l'ossigeno nel sangue lunghe file alle poste gli anziani al freddo fioccano le proteste le poste sono quelle in piazza del popolo a Pesaro ne parla il Corriere Adriatico questa mattina queste code che chiaramente quando si fanno con il sole poco male ma quando piove come in questi giorni diventano un problema soprattutto per gli anziani Zoe piccola pitbull uccisa fucilata l'arma ha identificato il cacciatore in questo caso il titolo un po' così l'arma intesa ce l'ha a maiuscola quindi l'arma dei carabinieri ha identificato il cacciatore era scappata dal cancello di casa poche ore dopo la notizia sciocca è arrivata cioè che questa piccola Zoe cioè il cucciolo di pitbull di neanche un anno è stata trovata morta con due colpi di fucile alla testa l'altra sera l'allarme è scattato poi sui social è successo a Granarola vicino a Gradara e insomma alla fine i carabinieri sono riusciti a rintracciare il cacciatore che ha sparato a questo pitbull il cacciatore dice sostiene che il cane lo stava aggredendo e lui si è difeso sparando la politica Gostoli lancia la costituente parliamo del partito democratico Morani chi perde si dimette il segretario di missionario e lo zoom sulla debacle elettorale un declino partito da tempo dice Gostoli Carancini e Mastro Vincenzo invece vanno giù duri e dicono l'analisi purtroppo è tardiva prendere l'esempio da Veltroni e da Renzi a questo zoomata hanno partecipato un po' di volti noti del partito democratico tra cui Matteo Ricci sindaco di Pesero dice l'analisi del segretario corretta avanti su questa linea poi Mangialardi che dice bisogna voltare pagina torniamo a stare in mezzo alla gente così come Mastro Vincenzo troppi tre mesi per l'analisi imparate imparare da Renzi e Veltroni così Carancini invece c'è ancora la necessità di dividere il partito andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico si può superare ora Marche Nord garantendo l'entroterra e le vallate il presidente di Noi Giovani prima del nuovo ospedale dice si rifletta su ciò che non funziona e si parla un po' di questa possibile forse futura rivoluzione diciamo della sanità provinciale con l'azzeramento con la chiusura dell'azienda ospedaliera Marche Nord visto che l'ospedale unico in linea teorica non si farà mentre sull'altra pagina del Corriere quella di Urbino la notizia è che il tribunale è sotto organico in sofferenza il grido di allarme del presidente Di Patria che all'incontro con l'associazione Urbino Capoluogo secondo il giudice una sede giurisdizionale ha ragione di esistere se viene fatta però funzionare sotto screening anti-covid qui siamo a Fermignano i contagi saliti a 141 l'appello di tutti i consiglieri comunali alla Regione all'Asur e alla Prefettura dunque tutti insieme maggioranza e opposizione del Consiglio Comunale di Fermignano che e quindi già di per sé come scrive giustamente il giornale Unite una delle pochissime e rarissime volte Unite maggioranza e opposizione per questa emergenza covid-19 si appellano alla Regione per chiedere di iniziare a Fermignano lo screening di massa per il coronavirus e quindi evitare come dice e sostiene il sindaco Feduzzi di arrivare a gennaio con tutto il paese di Fermignano contagiato Allora il nostro ospedale così muore uno nuovo a Pesaro non basta siamo a Pergola la protezione civile segnale il ridimensionamento dei reparti di cura e di laboratori poi si spegne invece a San Lorenzo in campo si spegne a 101 anni storica negoziante e anche poetessa Cordoglio per Tina Tomassetti l'esequie alle 11 nella Basilica questa è la fotografia appunto di Tina Tomassetti i funerali sono in programma oggi alle 11 in Basilica al termine poi la salma verrà tumulata appunto nel cimitero di San Lorenzo poi da Vallefoglia già inviate 2000 segnalazioni tutte risolte con Comunichiamo l'app messa a disposizione dalla giunta di Montellabate meglio dei post sui social adesso vanno un po' di moda anche queste qualche comune la sta utilizzando queste applicazioni per le segnalazioni poi Marche Multiservizi decide tutta da sola articolo 1 contro la pubblicità del biodigestore ancora non autorizzata e qualcuno dice ora di finirla con queste fughe in avanti da Senigallia una zona gialla senza scintille frenano ristoranti e botteghe il titolare del Vicoletto dice fanno male i colleghi che non riaprono dobbiamo dare segnali positivi l'ultimo saluto di Filippo Cicconi Massi ci rivediamo il Conte è morto 94 anni condizioni già critiche poi è sopraggiunto il Covid e adesso le pagine sportive per parlare di Fano e Pesero e Fano i titoli dalle pagine sportive tutti scontenti finisce a Riti Bianche il centunesimo derby dopo una partita non bella e povere di occasioni di rete annullato nel finale un gol ai Granata segnato da Carpani che però si trovava in fuori gioco chiediamo scusa ai tifosi il vice allenatore della Vis Bedetti dice non si può affrontare un derby con questo atteggiamento ma Capitan Gennari preferisce guardare avanti partite così qualche tempo fa le perdevamo e poi ancora sempre su questo derby meritavamo la vittoria il tecnico del Fano destro dice abbiamo attaccato e nel finale c'è stato anche l'episodio del gon allullato Carpani si prende tutta la corpa purtroppo su quel tiro di Marino non mi è venuto distinto metterci il piede e ancora una notizia che riguarda la Fermana ma qui c'è un fanese che è coinvolto e che tutti noi conosciamo Giovanni Cornachini 55 anni che da ieri è tornato alla guida della Fermana il tecnico fanese ha già allenato il giallo-blu nel 2010-2011 in eccellenza e dunque torna Cornachini il K.O. di Modena fatale per Antonioli che ieri è stato esonerato al suo posto riecco Gio Condor sono di nuovo qui con il solito entusiasmo dice Giovanni il gruppo è buono possiamo risollevarci in fretta sul VL invece passo indietro esulta Treviso un solo breve spazio sprazzo in avvio poi solo tanta fatica Pesaro ha provato a rientrare ma senza successo e questa è invece l'ultima pagina così non si va avanti dice coach Repesia striglia la squadra e l'ambiente non siamo tornati ai tempi della Scavolini alcuni giocatori erano indietro per problemi fisici poi abbiamo fatto delle scelte sbagliate e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa due cose soltanto sono appuntamenti per la serata allora oggi pomeriggio alle 18.30 avremo di nuovo Babbo Natale in diretta per la gioia di tanti bambini marchigiani e poi 20.30 telegiornale Occhio alla Notizia 21 circa l'appuntamento l'ultimo per quest'anno con Primo Cittadino e siccome è l'ultimo appuntamento per quest'anno come sempre la scrivania è riservata al sindaco di Fano Massimo Seri domani festa dell'immacolata Concezione saremo e osserveremo la festa quindi non saremo in onda ci rivediamo dopo domani grazie arrivederci a